Fermati che svegliamo tutto il palazzo Questa è mia figlia Lisa Che nome ti piacerebbe per tuo fratello? Ricky Hai un fidanzatino che si chiama Ricky? Non ho un fidanzatino Devo dire che vostro figlio è un caso molto affascinante per la scienza Mamma, guarda! Abbiamo pensato di tenere Ricky sotto osservazione Non se ne parla, lo porto a casa con me Cosa succederà a Ricky? Un giorno potrà volare Dovrà prima camminare Fatto, contento ora? Ricky! Aspetta Ricky, torna qua! Vorrei anche un bambino telecomandato? Non ci sono alcune domande Riprendi, riprendi! Pensavo che potremmo trovare un accordo con quei giornalisti È per i soldi? È per noi Per Ricky E per Lisa Amore mio, non essere arrabbiato Non ti volevo abbandonare Ma eri così bello quando volavi Non ti volevo abbandonare Non ti volevo abbandonare Non ti volevo abbandonare Non ti volevo abbandonare Grazie a tutti